buonasera alessandro buonasera salvo come va alla stragrandissima e tu tutto bene tutto bene guarda che panorama ovviamente siamo a roma si capisce si 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 capisce puoi cliccare fare tutto abbiamo tolto anche se è mio il telefono allora che ci diciamo che ci diciamo abbiamo lavorato un po però abbiamo sentito la necessità di fare questa diretta per perché volevamo riprendere un pochino in mano a me come so con i capelli no chiaramente chiaramente il vento quello non riusciamo a fermarlo ok va bene e quindi no volevo riprendere un pochino in mano era interessante riprendere un pochino in mano la testimonianza la testimonianza base volevo riprendere un pochino il tuo percorso cioè la tua storia la tua storia nell'ambito sei ok sì 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 l'evoluzione l'evoluzione perché ci pensavo qualche giorno fa te l'ho pure detto io fino a qualche mese fa quando facevo le dirette quando mi presentavo dicevo piacere alessandro sono il dipendente di una società che si occupa di garanzia alle aziende poi parlavo chi segue le nostre dirette lo sa benissimo parlavo di quella che era la crisi del settore che stava arrivando beh la crisi è arrivata è arrivata è arrivata unita delle scelte aziendali che oggi dico ominabili per non offendere la suscettibilità di nessuno l'ufficio niente non c'è più però però tu sei stato previdente sono stato previdente non sapendo eri stato previdente sono stato previdente in maniera inconsapevole non so come si dice vabbè inconscia va bene quando tre anni fa abbiamo provato a casa questi questi prodotti della fit line che ci hanno fatto stare bene abbiamo perso qualche chiletto quando lo volevamo perdere siamo stati meglio non ti sei fatto sì così no che sì sì che ne è una conseguenza è assolutamente una conseguenza della buona alimentazione perché questi prodotti comunque ci hanno fatto stare bene ci hanno fatto stare meglio ci hanno ci hanno aiutato in tanti momenti della della giornata quando ci buttavamo su schifezze quelle cose la e come tutte le cose che danno beneficio bene abbiamo parlato a quel tempo ne parlavo anche in ufficio con chiunque come si parla di tantissime altre cose e gli amici hanno provato questi prodotti li hanno provati si sono trovati bene hanno continuato a provare a provare di fatto di fatto che cosa è che noi facciamo comunque che tu hai fatto due serena avete fatto in realtà siccome sono contento del del fatto che sto utilizzando questi prodotti comunque che ne traggo dei benefici io questi benefici le racconta agli altri li racconta agli altri li provano come quando consigli mai approvare quella pizzeria o prova quella birra nuova che c'è qualche tanto che succede però quando gli amici aspetta qualche beneficio specifico ce lo vuoi raccontare qualche effetto e da subito da subito tre anni fa io quando ho iniziato ad utilizzare questi prodotti mi sono accorto che tornavo a casa e lo stress della giornata lavorativa in ufficio non c'era avevo voglia di uscire giocare con con brando fare una passeggiata mi svegliavo più riposato sono cose non da poco sono cose che migliorano la qualità della giornata giornata dopo giornata migliora la qualità della vita ci sta poco da fare assolutamente e ecco come lo sto dicendo adesso l'ho detto ad altre persone che li hanno provati e che è successo? è successo che innanzitutto si sono trovati bene ed è questa la migliore soddisfazione che va la maggiore soddisfazione che va al di là di qualsiasi tipo di guadagno però sta di fatto che l'azienda VM International ci paga quando le persone gradiscono i nostri prodotti quando si trovano bene come mi ero trovato bene io e come te trovi bene tu e quindi a loro volta li hanno consigliati li hanno consigliati ai loro conoscenti ai loro amici però occhio perché dopo all'inizio si primo mese secondo mese tre quattro mesi sti soldi entravano in tasca però sembrava quasi una cosa così diciamo oggi c'è domani non ci deve stare diciamo non per essere troppo tecnici o troppo particolari però di fatto accadevano due cose precise la prima è che molte persone accadono poi di fatto perché noi continuiamo a fare questa cosa di fatto alcune persone dicono beh se ti fanno bene a te questi prodotti li voglio anch'io e quindi e quindi magari provano i prodotti questo provoca un guadagno evidentemente sì e le persone alcune persone hanno cominciato a dire beh se sei capace tu che non avevi e non hai perché non ce l'ho ancora nessun tipo di competenza per quanto riguarda alimentazione nutrizione integratori beh allora lo posso fare anch'io e veramente lo possono fare tutti si è cominciato ad implementare una rete per esempio si si è allargata la rete di vendita dell'azienda e l'azienda chiaramente ci ricompensa per questo ci paga ci dà una rendita continua cioè che cosa è successo nello specifico è successo nello specifico che quei soldi nel giro di qualche mese sono raddoppiati perché non era più un fatto di persone che provano i prodotti ma c'erano anche persone che provavano l'attività ma dopo qualche altro mese ci siamo potuti togliere la soddisfazione perché lo stilandio ce l'avevamo in quel momento io ce l'avevo fisso serena saltuario però non ci potevamo permettere per esempio di cambiare la macchina e avevamo due macchine de grevide e adesso vedo un attimo belle giù dove sta la giupa parcheggiata eccola ecco qua non c'è di più vabbè vabbè il flash non c'è il loro zoom però ecco c'è la macchina che comunque ce la paga l'azienda ed è un qualcosa in più assolutamente extra poi la vacanza perché certo uno non è che inizia il lavoro per la vacanza però per andare in vacanza chiacci i soldi quando prendi lo stipendio a volte rinunci anche a una mensilità di stipendio per un giusto riconoscimento a noi ce la paga l'azienda noi andiamo in azienda noi andiamo in vacanza una settimana sto pagato dall'azienda fantastico tanto è assolutamente tanto quindi questi sono tutta una serie di benefit che sono come dire a corredo dell'attività che già di per sé ti dà quello che ti deve dare in termini economici e poi dopo parliamo di auto parliamo di un'assicurazione mi pare parliamo dei viaggi parliamo di tutte quelle cose importanti che alla fine ti rendono dignitoso più che dignitoso quello che stai facendo anche e soprattutto dal punto di vista assolutamente no 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 è proprio questo il concetto perché poi con il tempo le persone cominciano a prendere fiducia in quello che gli dici perché di fatto l'hai fatta stare meglio gli hai fatto risolvere dei problemi piccoli o più grossi che siano ma problemi quotidiani e quindi è anche una grande soddisfazione quindi molto semplicemente perdonami perché a me tutta sta voglio dire il tema è che io sto bene perché utilizzo questi prodotti e la battuta è che io se non facessi questo business comunque utilizzeresti i prodotti lo dico sempre anch'io in più sta cosa mi fa guadagnare abbiamo ripreso in mano tutte si è costruito il piano B io ho ripreso in mano la mia vita poi un giorno ne parleremo ma scusate perché non aprite un contatto e chiedete informazioni specifiche o comunque fate come volete noi abbiamo molto piacere se voi ci chiamate e ci chiedete informazioni assolutamente d'accordo chiedete tutte le informazioni che volete oppure se siete persone che oggi non se la sentono di chiedere seguiteci continuate a seguirci sui social sui canali youtube sui siti perché magari un giorno potrà capitare di avere quel dubbio quella curiosità in più oppure di avere un amico che ce l'ha e noi stiamo sempre qua e noi stiamo qua beh magari non stiamo qua va bene ecco facciamo vedere questo mega panorama che è fantastico salutiamo non portiamo più via tempo alle persone no 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 salutiamo i nostri amici grazie per averci seguito grazie per quelli che vedranno il video dopo perché dove troveranno questi video Alessandro? pagina facebook Alessandro Forestiero o Salvo Cipriano pagina facebook successive ricollegate ai nostri profili profilo youtube canale youtube di Salvo Cipriano o di Alessandro Forestiero tutti i nostri social partendo da facebook troverete tutti quanti i nostri social dove potete appunto rivedere questo vedere le informazioni che diamo su questa attività e vedere soprattutto rivedere soprattutto questo video grazie ancora per averci seguito grazie a te Alessandro grazie a te Salvo grazie ciao ciao